Buonasera a tutti i nostri ascoltatori, benvenuti ad una nuova puntata di Radio Puggino NER. Parleremo di un'intervista molto interessante, quella di Giuseppe Conte, leader del Movimento 5 Stelle. L'intervista di questa sera sulla Sette da parte di Enrico Mentana nel suo speciale L'Ultima Parola. Oggi, 7 giugno 2024, l'intervista di chiusura di questa campagna elettorale per Giuseppe Conte e il Movimento 5 Stelle, uno dei maggiori competitor in queste elezioni europee che si terranno domani, sabato 8 giugno e domenica 9 giugno. Noi saremo qui per raccontarvi in tempo reale tutto ciò che accadrà, aspetto nei commenti del nostro podcast i vostri commenti sotto al nostro podcast per discutere ancora poi insieme dei temi sollevati da Enrico Mentana, delle risposte che ha dato Giuseppe Conte. Ce ne discuteremo appunto dopo questo episodio nei commenti del nostro podcast. Ma ora addentriamoci in questa intervista che ha visto protagonista Giuseppe Conte, il leader dei 5 Stelle alla vigilia di queste cruciali elezioni europee. Conte, che ha ricoperto il ruolo di Presidente del Consiglio in due governi distinti prima di assumere la guida dell'opposizione parlamentare, ha condiviso la sua visione su numerosi temi caldi. Esploreremo insieme i momenti salienti di questa intervista. Analizzeremo le posizioni espresse dal leader dei 5 Stelle. Iniziando con un tono riflessivo, Enrico Mentana ha introdotto Giuseppe Conte facendo notare come questa fosse la prima campagna elettorale che Conte affronta come principale figura dell'opposizione parlamentare. Una campagna ben diversa da quella del 2022, quando Giuseppe Conte sordiva da leader, ma con un passato recente da capo di due governi consecutivi. Questa è la prima volta che lei fa una campagna elettorale da figura principale dell'opposizione parlamentare, dice Enrico Mentana. Come ha trovato il popolo dei 5 Stelle? Conte ha risposto con un'analisi della situazione italiana molto approfondita, descrivendo un popolo molto sfiduciato, in sofferenza e afflitto da incertezze economiche e sociali. Ha sottolineato quanto sia cruciale comprendere l'importanza del voto europeo, poiché molte delle decisioni che impattano sull'Italia, sui cittadini, vengono prese proprio a Bruxelles. Conte ha ribadito la necessità di avere idee chiare e forti per rappresentare adeguatamente gli interessi italiani in Europa. Il popolo dei 5 Stelle, ma non solo perché, fermandoci a parlare per strada con chiunque, c'è un popolo molto sfiduciato purtroppo, un popolo in sofferenza, un popolo che ha grandi difficoltà. Da questo punto di vista bisogna cercare di far capire che questo voto è decisivo, dice Giuseppe Conte. Passando a temi di politica estera, Conte ha espresso una posizione netta contro l'escalation militare in Ucraina. Ha criticato duramente la strategia attuale, sottolineando i rischi di un coinvolgimento sempre maggiore che potrebbe portare a una partecipazione diretta, ad una precipitazione degli eventi e i giovani italiani potrebbero essere davvero chiamati alle armi nel conflitto. Conte ha menzionato le parole di Macron come un segnale preoccupante e la mancanza di combattenti in Ucraina potrebbe portare ad una chiamata alle armi più estesa. Non ci sta bene questa terza guerra mondiale in cui ci stanno trascinando passo dopo passo con questa logica militare dell'escalation. Questo è il momento di dire basta, dice Giuseppe Conte che inoltre ha criticato l'adesione del governo Meloni al patto di stabilità dell'Unione Europea, definendolo un ritorno alla austerità che porterà a pesanti tagli economici colpendo duramente settori cruciali come la sanità. Meloni ha accettato senza fiatare questo patto sull'austerità, ci porterà a dei tagli che ci faranno malissimo, dice Giuseppe Conte. La discussione si sposta poi sulla corruzione, un tema che Conte ha affrontato con vemenza, ha criticato l'incapacità di combattere la corruzione sia a livello nazionale che europeo. Secondo Conte, per intervenire ed invertire la tendenza negativa con l'Europa è necessario dimostrare patriottismo non solo nelle parole, ma soprattutto nei fatti durante i negoziati a Bruxelles e nei vertici internazionali. Si inverte innanzitutto dimostrando di essere patrioti non la domenica quando si sta in famiglia, ma patrioti quando si va a Bruxelles, ai tavoli di Bruxelles. Dice Giuseppe Conte che ha accusato il governo Meloni di aver rinunciato a combattere accettando senza riserve la proposta franco-tedesca, senza proporre alternative valide. Non avrebbe mai dovuto accettare questa proposta franco-tedesca, soprattutto doveva proporre un'alternativa, dice Giuseppe Conte che ha poi approfondito le sue critiche alla gestione economica dell'attuale governo, concentrandosi sulle misure come la transizione 4.0 e la nuova proposta transizione 5.0. Ha sostenuto che queste iniziative sono state implementate in modo inefficace, senza un reale sostegno agli imprenditori italiani, portando ad una stagnazione del sistema produttivo del Paese. Hanno fatto la transizione 4.0 ma senza una misura per rilanciare la crescita del nostro sistema produttivo, dice Conte. Parlando delle recenti accuse di truffe relative al superbonus, Conte ha difeso la misura spiegando che la maggior parte dei presunti danni all'erario sono in realtà bloccati, ancora prima non si traducono in perdite effettive per lo Stato. Infatti nel momento in cui si va a chiedere, se si tratta di questi casi, nel momento in cui si va a chiedere rimborso per le spese fatte, questo rimborso naturalmente non viene dato, per cui è tutta una farsa quello che si dice, che dice la Meloni e il governo su questo bonus di Conte e ha invitato, Conte ha invitato il governo a studiare meglio, a studiare, soprattutto ha detto a la Meloni più volte studia, perché naturalmente lui anche essendo professore proprio in questo campo direi che ne sa molto di più di Giorgia Meloni. Dunque ha invitato il governo a studiare meglio le dinamiche fiscali e l'ha accusato la Meloni di diffondere false informazioni. Guardate che il direttore dell'Agenzia delle Entrate ad aprile è andato al Senato e lo ha spiegato, almeno potrebbero leggere la relazione che c'è stata, dice Conte. La conversazione è poi tornata alla politica estera, con un focus particolare sulla crisi a Gaza. Conte ha criticato aspramente il governo italiano per la sua neutralità e ha espresso vergogna per l'astenzione dell'Italia nelle votazioni delle Nazioni Unite riguardo al conflitto israelo-palestinese. Il massacro a Gaza, la carneficina inaccettabile, un governo che per tre volte si astiene, non si presenta all'Assemblea delle Nazioni Unite. È inaccettabile, dice Conte. Ha dichiarato che la situazione a Gaza rappresenta una violazione del diritto internazionale umanitario e ha assistito sulla necessità di una pressione internazionale per fermare le azioni del governo Netanyahu. È un crimine di guerra, è violazione palese del diritto internazionale umanitario. Va interrotto, dice Conte. Questa intervista ha offerto uno sguardo approfondito sulle posizioni di Giuseppe Conte sui temi cruciali come economia, politica estera e gestione del conflitto in Ucraina e a Gaza. Mentana domanda anche del conflitto. Dunque, Ucraina-Russia e Conte ha espresso preoccupazione per gli aiuti militari che sono stati mandati e ha spiegato che, sebbene fossero stati approvati all'inizio con difficoltà, erano visti come funzionali a promuovere una de-escalation. Questo c'era scritto, insomma, in ciò che hanno anche votato i Cinque Stelle. Dunque, erano funzionali per aiutare sul momento l'Ucraina e poi promuovere una de-escalation, avviare negoziati di pace in linea con il principio costituzionale italiano che ripudia la guerra, anche se a quel punto le armi comunque non gliele dovevi dare, secondo me, no? Però, menti, è stato un errore, ok, una svista. Ma Conte poi ha criticato il governo Draghi per non aver preso l'iniziativa di negoziati di pace e ha accusato successivamente il governo Meloni di seguire le direttive di Washington e Londra. Ha menzionato la possibilità, subito dopo l'aggressione di un negoziato di pace a condizioni onorevoli, ma ha lamentato che le posizioni più aggressive abbiano prevalso. Riguardo il sostegno europeo a Zeleschi, Conte ha affermato che farà di tutto per cambiare la strategia attuale che considera fallimentare. Ha espresso preoccupazione per il futuro dei giovani, immaginando un futuro in cui i nostri ragazzi potrebbero essere chiamati a combattere. Ha ribadito la sua posizione a favore di una difesa comune europea, pur riconoscendo che ci vorrà tempo e una politica estera comune prima di realizzarla. Conte ha concluso riflettendo sulla necessità di una strategia più integrata per l'Europa, sia in termini di difesa politica estera, sottolineando che un esercito comune non avrebbe senso senza una politica comune, dunque. Ha enfatizzato la necessità di contrastare le politiche di austerità attualmente predominanti, proponendo una direttiva europea che riduca la settimana lavorativa a 32 ore, mantenendo gli stessi livelli salariali. Ha citato studi ed esperienze positive che dimostrano come una tale misura non solo favorisca una migliore qualità della vita per i lavoratori, ma possa anche aumentare la produttività nei luoghi di lavoro. Il concetto di europeismo critico è stato al centro del suo discorso, in cui ha chiarito che, mentre sostiene l'adesione europea dell'Italia, riconosce anche la necessità di proteggere la sovranità nazionale. Ha sottolineato l'importanza di bilanciare gli interessi nazionali con quelli dell'Unione europea, garantendo che l'Italia possa trarre vantaggio dall'appartenenza all'Unione europea senza perdere la propria identità nazionale e così l'Europa possa essere arricchita dalle idee di uno dei Paesi fondiatrici o fondatori. Dunque Conte ha approfondito la sua riflessione sul ruolo dell'Italia nell'Unione europea, enfatizzando la necessità di una leadership italiana che promuova gli interessi del Paese, ma anche contribuisca al benessere generale dell'Europa. Ha fatto riferimento alle politiche di bilancio, alla cooperazione internazionale e alla gestione delle crisi come aree chiave in cui l'Italia può giocare un ruolo significativo. Infine Conte ha condiviso alcuni nomi chiave delle liste del Movimento 5 Stelle per le elezioni europee evidenziando figure impegnate nella lotta contro la corruzione, nella promozione dei diritti sociali e nella parità di genere e ha sottolineato l'importanza di avere rappresentanti capaci e motivati che possano portare avanti le battaglie del Movimento a livello europeo. In conclusione Giuseppe Conte ha delineato una visione per un'Europa più equa e solidale, un europeismo critico basato sulla difesa degli interessi nazionali italiani all'interno di un quadro europeo più ampio, un'Italia che contribuisca anche a creare questa Europa unitaria. Continuate dunque a seguirci su Radio Puggino NER per ulteriori approfondimenti e analisi sulle elezioni europee e le tematiche politiche più rilevanti. Questo un riassunto, anche un mio commento all'intervista di Giuseppe Conte di questa sera da Mentana sulla 7 in vista delle imminenti tra davvero pochissime ore elezioni europee andate a votare chiunque votiate. un riassunto di questa intervista abbastanza sostanzioso spero per tutti coloro che l'hanno persa in diretta ma potranno naturalmente sono sicuro riascoltarla in streaming tra poco sulla 7 e negli altri siti dedicati tra cui quello sicuramente del Movimento 5 Stelle per cui spero che il mio contributo vi sia piaciuto spero di ricevere i vostri commenti in modo tale da continuare a dibattere su questi temi anche dopo la nostra diretta ci riascoltiamo presto per il prossimo episodio di Radio Puggino NER grazie per essere stati con noi e buona giornata grazie per aver guardato grazie per aver guardato grazie per aver guardato